Ciao, stiamo facendo il caffè, buongiorno, facciamo il caffè La mamma si toglie questo, saluta, dice ciao, io volevo partecipare a questo vlog e facciamo vedere Buongiorno, è vero come si fa? Buongiorno a tutti, stiamo facendo il cappuccino con questo cappuccinatore raga Mi ha portato d'aria, ce la duro, si preme qua, ovviamente il latte deve essere prima a caldo E fa la schiuma, oh è volato vabbè, adesso vedete, vedete che bella schiuma, ce la duro La mia colazione preferita raga è sempre, ultimamente è questa La pancarina integrale con la cioccolata light che tra l'altro è anche finita E il latte, cappuccino, questo lo scaldo anche, 30 secondi a microonde raga, è buonissimo E poi lo inzuppo, ti faccio così e lo inzuppo qua dentro, vabbè Ragazzi, buongiorno, benvenuti in questo nuovo vlog Ultimamente tra Youtube che sono tornata attiva, TikTok che sto facendo TikTok e Instagram che sono sempre super attiva Sto facendo tante cose, sono tanto felice Vi piace il mio nuovo smalto? Bellissimo E mi ruba sempre il pane con la cioccolata No, no, no a mamma Non male che era pochissima la cioccolata Ti ha fregato, ma lo devi mantenere stretto È arrivato anche mio amore, ciao amore Così è bello E ti bacio Guarda Daniel Guarda il bacio qua Guarda il bacio qua Qua, è bello? Babbè, babbè Babbè, babbè Mi vedevano i sporchi Aspetta, devi venire i sporchi Babbè 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 Perché noi vediamo E lui vede Babbè 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 Ti affoga Babbè 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 Eccomi Allora Io mi sto preparando per andare in casa nuova E vi porto con me Quindi vi faccio vedere un po' di aggiornamenti Mi piace quando metto i capelli così? Mi sta piacendo questa cosa Avevo fatto delle foto su Instagram Che addirittura la pettinatura messa con le mollettine Capelli così Ragazzi è bellissimo l'effetto Babbè Comunque Vi volevo far vedere Adesso andiamo in casa nuova Quindi faccio un po' di aggiornamenti Ma vi volevo far vedere anche i miei nuovi gioielli pure lei Sapete che io amo tantissimo questo brand Ormai utilizzo solo gioielli pure lei Perché mi piace la qualità Non scolorano mai Sono bellissimi Ormai anni che li utilizzo Anche gli anelli Sono bellissimi Collane Bracciali Poi ci sono tantissimi modelli originali C'è questo set Che è fatto da questa collarina Che è nuova Troppo carina Con il brillantino Il cuoricino Gli orecchini Questi cerchiettini E il bracciale A cui ho messo l'iniziale Che è un set nuovo Ed è bellissimo E poi ho messo questa collana Con la lettera Nella mia iniziale Il cuore Questo è bellissimo Sto cuore La catena Qui ci sono anche un sacco di catene Sul sito pure lei Io veramente ve lo straconsiglio E poi ho messo anche Vedete ci sono anche L'aircalf Non l'ho messo Però ce le ho anche Questi qua finti Bellissimi E poi anche Qua ho messo anche la letterina Perché loro hanno fatto anche tanti Con le lettere Quindi le iniziali Può essere anche un'idea Per i regali di Natale Con le iniziali Ho fatto Qua ho messo la D Di Daniel Qua invece ho messo la C E poi anche gli anelli Sono veramente Veramente belli Io li amo Comunque La bella notizia ragazzi È che sul sito pure lei C'è il Golden Day Praticamente il Golden Day È un evento Ancora più grande Del Black Friday Tutto scontato Infatti C'è il 70% Ed è una bellissima occasione Per prendere questi gioielli E pagarli Veramente pochissimo Sono di altissima qualità Potete fare anche Regali di Natale Perché sul sito È tutto scontato Al 50% In più Col mio codice Carlita Gold Avrete un 20% extra Quindi praticamente un 70% Li pagate meno della metà Quindi vi conviene approfittare Comunque Dopo vi faccio vedere Anche un po' I gioielli miei Perché io ne ho tantissimi Di pure lei Quindi quelli che proprio I miei preferiti Che vi straconsiglio Nel frattempo Vi metto il link Nel box informazione Così potete andare A dare un'occhiata E il codice Carlita Gold Quindi approfittate Perché è veramente È una bellissima occasione Anche le letterine Sono simpatiche Anche come anniversario Per il vostro fidanzato È una bellissima idea Regalo Quindi Mi conviene Approfittare Poi ripeto Sono anche impermeabili All'acqua Pensate io Mi alleno Faccio la doccia Veramente non scoloriscono mai Sono bellissime Quindi approfittate Eccolo qua il set Vedete raga Perché ne ho presi due Perché uno Lo voglio regalare A mia madre È bellissimo Perché porta questa collana Che c'è È spettacolare Questo è il nuovo set Pure lei Adoro Porta sia il cuoricino Che brillantino Gli orecchini Che sono carini Perché non sono Eccessivamente grandi Molto fini E carini E il braccialettino A cui io appenderò La letterina Perché loro fanno Tante cose Anche con le lettere Appenderò la D Raga vedete che belli Gli anelli Cioè adoro Ma ce ne sono Di bellissimi Guardate che belli Brillano tantissimo Non siate Questi qua Ce l'ho da un anno Sono veramente Sempre perfetti E questa qua È troppo bella Con la letterina Ma brillano Un sacco Voi mi chiedete Sempre anche su Instagram Gli anelli Che utilizzo Questo è bello Perché questo È anche nuovo Ed è regolabile Vedete com'è Quindi praticamente Lo potete indossare Anche a dita diverse Ed è super brillante Ma sono tutti così Brillano tantissimo Anche questa felina È bellissima Comunque vi metto il link Perché veramente Un'occasione così Con questi sconti Così grandi Non ci sarà mai più Quindi approfittate ragazze Sono veramente il top Tutti argento e oro Qualità top Questi non sono cinesi E non sono scadenti Quindi non scoloriscono mai Approfittate ragazzi Per quello che li pagate Veramente Avete dei gioielli Bellissimi A un prezzo Super conveniente Grazie Ho preso dai cassetti Alcuni gioielli Ma io ne ho ancora altri Questi sono veramente Tra i miei preferiti In assoluto Di pure lei Per farvi vedere Io li conservo In questi contenitori Ma sono bellissimi Sia quelli d'argento Questi di svaroschi Raga li ho presi Proprio ultimamente Li amo Infatti li vedete Anche nelle mie foto Instagram Uso sempre I loro gioielli Questi qua Che hanno svaroschini Tutti sui cerchi Anche questi qua Li ho presi Sia oro Che argento Sono veramente Bellissimi Guardate qua Cioè portano Sia i svaroschini E poi appeso Il ciondolino Sono veramente belle Della collezione Con questo Anche bellissimo Quest'altro Completo Mi piace un sacco Bracciale e collana Poi tutte queste qua Anche sono molto belle Guardate questa Quanta è bella E brillano tantissimo Questi Che li ho anche in argento Li ho presi anche in oro Perché trovate sia argento Che oro Con il choker Bellissimo E anche questa catena Guardate che bella E poi ci sono tutte le lettere Che potete appendere Sia bracciali Che le collane Poi cerchi Di tutte le dimensioni Ma ne ho ancora altri Cioè sono fissata Con i cerchi Alla gelù Le lettere Vedete Queste qua Potete anche regalarle Sono molto carine Questa collana Anche mi fa impazzire Con le conchigliette Questo Che lo amo Me lo chiedete sempre L'ho preso sia in argento Che in oro Perché è anche questo qua Soltanto che quello là in oro Momentaneamente non lo trovo Ma ce l'ho Perché è bellissimo Uno dei miei preferiti Questo anche classico Comunque raga Sono veramente stupendi Anche questa con le madonnine C'è sia orecchini Che collana Comunque sono Cioè io sono innamorata Di questi gel Anche con le perline Veramente sono belli E vi giuro ragazzi Faccio la doccia Mi alleno Li indosso sempre Non si scolorano mai Quindi qualità E convenizia Soprattutto ora Che avete lo sconto Con il mio codice E arrivate fino a 70% Carlita Gold Quindi approfittate Ragazzi siamo arrivati Alla casa nuova Purtroppo Subito si fa buio Comunque vogliamo far vedere Tutte le novità Amore viene anche tu Perché praticamente qua Tra poco porteranno la cucina Vero amore? Ho detto qua Tra poco porteranno la cucina Sì Vero? E ne restano soltanto Da abbattere questi muri Vero amore? Sì sì Lo vuoi dire tu? Amore mettiti più qua Visto che a te ti credono Signore e signore Buonasera Sono qui Mettiti più frontale Mettiti più frontale Amore Più frontale Vila Carquita Vai Con i spettatori A voi che stanno là Guardate Stiamo aspettando i permessi No dici Qual è la verità Della nostra casa Perché non la finiscono? Perché Perché se non le buttano a terra E come mai non le buttano a terra? Ragazzi se ci date una mano Qualcuno con martelli o scappie Qualcuno per dare una velocità Esatto Comunque la cosa importante È che dobbiamo avere questi permessi Perché noi non stiamo facendo nulla di abusivo Ma tutto a norma di legge Quindi purtroppo La legge però ti fa aspettare Vero amore? Sì A spendere A viaggiare Vero amore? E come direi Quando sarà pronta Le cose belle hanno il passo lento Non c'è problema Non è che Ti vedete proprio qui Ci vedete sempre qua Esatto Non è che lo stiamo vivendo Le nostre vacanze Comunque Siamo a casa nostra Stiamo dando bello Quindi quando sarà pronta Sarà pronta Poi il nostro architetto è scappato No non è vero Stiamo scherzando Se ci vedete lo salutiamo Perché lavora sempre intensamente Vero amore? E tra un po' metteremo anche gli infissi Yes Yes Bravo amore Bravissimo Abbiamo spiegato tutto Com'è Però qua mettono la cucina Qua la cucina Dietro c'è il bagno Eh fai vedere dove sta il bagno Vai amore Io ti seguo Di meno un carino Con paura amore Non mi metto paura Qua c'è un'altra volta Vai Sì Amore Sto facendo la pipì No qua non va Non qua non lavandine Ah no di là è lavandina E qua va E qua viene la lavanderia Ci sta qua fuori Qua c'è la finestra Dove vera Qua noi faremo la sauna Ragazzi Ah pure qua la finestra Ah è qua pure viene la finestra Pure qua stiamo aspettando Esatto E queste Ah beh Piano di sopra Ve lo risparmio Hai visto Io sono illuminata Da una luce divina Nella mia casa Comunque Niente Questo è quanto E quindi Noi stiamo aspettando Però Comunque C'è anche da dire Che tutto si è rallentato A causa del covid Perché Comunque Per avere questi permissi Ci sono sempre Un sacco di tempo E quindi Comunque se ci danno i permissi Penso che in 3-4 mesi È veramente finita la casa Perché Siamo a un punto Veramente buono Mancano gli infissi Le porte E l'arrido Alla fine La cucina Noi già l'abbiamo comprata Tante cose Anche I pavimenti Il marmo L'abbiamo comprato già tutto Ma in caso Dobbiamo comprare Soltanto il letto Il divano Ste cosine qua Ah si E qua Questo muro Praticamente ragazzi Si abbatte E qua Si allarga la cucina Quindi Tutta questa cucina È normale Esatto Vi ospitiamo tutti qua Per fare una scena Di benvenuto Ragazzi Facendo la spesa E mi fisso sempre A guardare Tutte queste salsine Cioè io le amo Salsina raga Io le amo Però La faccio a casa Ma vi faccio Legge gli ingredienti E la facciamo assieme Stasera Vi faccio vedere Però è buonissima Solo che c'è Zucchero E un po' di grassa Però non è tantissimo grassa Però Si può fare anche Con l'avocado Poi vi faccio vedere Semplicissimo Adoro Anche questa Mamma mia Che buona Tre biscotti E mi chiedete sempre Questi sono light Sono anche buoni Vi consiglio Altri buoni E veramente senza zuccheri Sono questi qua Ragazzi Li trovate Sono super super Dietetici Anche tipo Per fare La cheesecake Light Sono buonissimi E Vabbè Anche questi qua Però I più light Di tutti Sono questi Proprio senza zucchero Se no Più light Ancora Le fette biscottate Queste Ancora più light Ragazzi Siamo pronte Per preparare La piadina Vi faccio vedere Come la faccio La piadina croccante Che Mi chiedete sempre Su instagram Con il salmone Questi sono ingredienti Le zucchine E poi Faccio vedere La cremina All'avocado E la fila Del fia light Invece Per questo Mostriciattolo Qui Per questo Mostriciattolo Che Ah Tu Cadi A testa Azzù Tieni Stiamo preparando La pappina Vero amore Mamma Mamma Aspetta Adesso sto facendo Il pescionino La soglietta Con i broccoli Qui che aspetta Sempre Vero Che aspetti Che vuoi tu Ragazzi mi sono messo Questo pigiama Di mini Cioè è bellissimo Fantastico La salsina Si fa così Con l'avocado Un po' di olio Sale Limone Succo di limone Un po' di aglio In polvere Io uso questo qua Aglio in polvere E cipolla in polvere Deve essere Bello Più è morbido L'avocado E meglio Questo non era tantissimo E poi Mettiamo un po' di tabasco Io metto un po' di Di tutti e due Questi qua Se non l'avete Anche un pizzico Di peperoncino O un po' di pepe E così È proprio Quella salsa Alla cosiera Perché c'era la cipolla È piccante Il limone E questo È un filo d'olio Ho detto Questi sono Ok Schiacciamo 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 Pronta la pappina Del mio amore Con la soglolina Fresca Sfilettata Alla nostro pescivindolo I broccoletti E l'olio Ecco qua Amore È pronta la tua pappa In frattempo Ha buttato tutto Per l'arremonello È brutta la tua pappina Buona Il pesciolino Andiamo Andiamo Tutto riscaldiamo Una piastra In cui metteremo La piadina Quindi deve essere Abbastanza grande La piadina Io prendo queste qua Integrali Ma comunque Va bene Qualsiasi piadina Mettiamo uno strato Di filadelfia Questa qua Io uso Questa qua Proteca Dove sta Eccolo qua Questa qua Proteca Che ha Pochissimi grassi Ma comunque Anche la light Va bene Anzi questa me L'avete consigliata Voi su instagram Dopodiché Metto il salmone Ora vi faccio vedere Ok ragazze Vado con Le fettine Di salmone I raga A questo punto Dopo Filadelfia Salmone Strato di Zucchine Affettate Sesso a crudo Perché fosse cuocere Tutto insieme Con questo Aggegino Magico E adesso Le posizioniamo Sulla piastra Ok Mettiamo Sulla piastra Che era calda Facciamo cuocere Così Poi la pieghiamo E il segreto È La frigitrice Ad aria Passaggio Frigitrice Ad aria Che farla diventare Super croccante Come avete visto Nei miei video Tiktok Come fa La giraffa Come fa Brava 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 Amore Grazie Ecco qua Voi iscrivetevi nei commenti Se volete Altre ricettine Comunque Adesso La mettiamo Nella frigitrice Ad aria E viene Super super Croccante Vedete Ragazzi Ed ecco qua La nostra Super piadina Buon appetito Amore vieni Comunque io Non fate caso alle condizioni Sto facendo una maschera purificante E mi fa ridere che io C'ho la fascia Come Minnie Adoro Comunque Volevo dire Questa cosa è importante Volevo far vedere Innanzitutto il sito Oppure lei Bello Questa è la collana nuova Che vi ho fatto vedere io Che è tutto pieno di sconti Vedete quanti sconti ci sono Ci sono sconti Pazzeschi Fino al 50% E in più A tutti questi sconti Voi avete Anche il mio 20% Con Carlita Gold Carlita Trattino Gold Quindi veramente Conviene approfittare Ed è tutto Tutto scontato Ci sono tantissime belle cose Quindi cliccate sul link Del box informazione E inserite il mio codice Comunque Voglio farvi dire anche un'altra cosa Sotto al Al mio ultimo video Per Non perdere le notifiche Perché mi dite Che spesso Non vi arriveranno le notifiche di video Attivate la campanella Cosa importantissima Anche ora lo potete fare Oltre ad essere scritti In basso Dove c'è il titolo Vedete O di qua O di qua Mi ricordo Comunque c'è Si dovrebbe essere di qua C'è una campanella Cliccate così Attivate le notifiche E vi arriva proprio sul cellulare Quando io ho caricato un nuovo video Perché YouTube Veramente C'è Mi dovete credere Sta facendo delle cose Assurde Perché non vi manda le notifiche Quindi il video Magari lo vedete dopo una settimana E ad esempio Questa promo qua Di pure lei È importante Che voi la vediate ora Perché poi Fra qualche giorno Non ci sarà più Quindi potete approfittare Anche per fare qualche regalo Di Natale O prendervi anche qualche gioiello Magari per Capodanno Già da ora Perché Questi prezzi Che ci sono ora Così scontati Non ci saranno più Poi Altra cosa importante Ah Un altro video Lo caricherò In settimana Qua tutto il mio La mia agenda Venerdì 19 Io caricherò Un altro video Anche quello Bellissimo Importantissimo Quindi non vi voglio Spolerare nulla Però è veramente Bello Importante Quindi ci vediamo Venerdì Ne fa tempo Lasciate like Commenti E come al solito Ci vediamo Su Instagram E su TikTok Anche E qui su YouTube Venerdì Ciao Scrivetevi nei commenti Voi come state Perché io vi parlo Sempre di me Voglio sapere Voi come state Raccontatemi Qualche cosa bella Di voi Che vi è successa Dai A me piace tantissimo Leggere i vostri commenti Ciao ciao